terza ed ultima partita della seconda giornata del campionato fiat dell'edizione auto italiane dei tornei skies di fronte si schierano i gladiators e gli skyjumpers i gladiators si schierano in campo con ferraro tra i pali ferrara sempre tra i pali poi ci sono zaccaro che veste i gradi di capitano anastasio criscuolo e poi c'è l'altro criscuolo sono due anastasio controllo meglio dopo mentre per quanto riguarda invece gli skyjumpers si schierano in campo con andaloro tra i pali cicatiello mazzei sollo e albergo a completare 5 titolari mentre in panchina c'è truio e silenzio gli skyjumpers hanno vinto l'esordio contro gli ac blues ottima parata e su mazzei però non può fare niente il portiere ferrara e stavo dicendo che gli skyjumpers hanno vinto l'esordio contro gli ac blues per 11 a 3 mentre e i gladiators non è andata altrettanto bene per la sconfitta di misura 7 a 2 contro i catenacciari intanto buono qui l'intervento di sollo a servire andaloro che per non evita per evitare rischi allontana il pallone direttamente in rimessa laterale zaccaro serve praticamente a mazzei si manaccia ferrara jenny prende un pallone pallone dove prendere a bivati anastasio recupera palla mazzei scambia con solo mazzei tiro al lato errore qui di mazzei sottoporta bravo cicatiello posizionato molto alto fallo qui di zaccaro su cicatiello intanto pronto ad entrare anastasio il senso che è in panchina solo numero 21 perché l'undice era stato già preso è che sia maglia di ronaldo cicatiello palo quindi mazzei hotel perde palla qui sul contrasto con il scuolo che poi avanza uno contro uno con solo affonda il tegel l'uomo degli skies poi il scuolo il verde recupera palla scivola solo di nuovo solo quindi andaloro cicatiello mazzei passaggio a solo largo tiro mazzei deviazioni angolo grazie zaccaro fa toccare credo l'avversario che ci sia credo sia fumo anzino angolo fallo laterale per il blu si deve aspettare il fisco dell'arbitro la criscuolo bravo qui a recuperare palla poi scivola solo serve hotel entra in area pallone al centro solo facile facile 2 a 0 sky jumpers criscuolo servito da zaccaro dopo il calcio d'inizio il secondo gol subito di nuovo zaccaro avanza ferrara riscuolo duro cicatiello che commette fallo calcio di punizione prima pallone anche qua un metro dalla palla uno ne vuole andaloro criscuolo alla battuta del calcio di punizione bravo andaloro attento che poi con i piedi serve il numero 4 albergo 15 catiello sollo andaloro si sgancia e viene servito da cicatiello di nuovo cicatiello sollo albergo bene largo per mazzei a destra urla cicatiello di prima si fa vedere sollo bella questa palla per mazzei tiro sul fondo ferrara la battuta del fondo criscuolo zaccaro bella questa palla per criscuolo fermato però il passaggio da albergo c'è un fisco dell'arbitro c'è un calcio di punizione credo a favore dei blu ah no c'è una scivolata di albergo giusto criscuolo tiro sul fondo c'era anastasio al centrocampo poteva essere servito sollo largo a destra simone mazzei male questo passaggio regala palla a criscuolo cicatiello rimedia e col destro devi in fallo laterale occhio qui andaloro poi recupera palla zaccaro criscuolo alto il destro ci sono i cambi allora entra anastasio per i gladiators ed esce criscuolo mentre per i blu entrano truglio e silenzio ed escono solo e albergo che fanno coppia fissa fanno coppia fissa che in panchino truglio mazzei pallone furi fallo laterale a zaccaro anastasio truglio non lo molla ancora anastasio all'indietro ferrara partito lungo il pallone in avanti mazzei senza complimenti devi al pallone in fallo laterale anastasio anastasio zaccaro cicatiello e truglio addomesticano questo pallone quindi silenzio truglio allarga di prima a destra per mazzei che si accentra serve silenzio che fa 3 a 0 bella azione dei blu che portano a tre i propri le proprie reti gladiators invece ancora un po imbambolati silenzio di prima ferrara prima di mazzei criscuolo truglio prima di anastasio truglio commette fallo calcio di punizione per i rossi mazzei recuperano palla ai blu e mazzei però sbaglia il controllo criscuolo ferrara bravo mazzei cicatiello grande risposta di ferrara che smanaccia in fallo laterale silenzio cicatiello mazzei destro palo mazzei truglio anticipato e chiuso da criscuolo che poi avanza insieme ad anastasio contro andaloro ultimo tocco a favore dei blu silenzio truglio andaloro cicatiello si fa vedere silenzio cicatiello avanza da solo rischiando un po' anastasio anastasio serve l'altro anastasio quindi tu io messo bene vede silenzio ferrara rimedia tutto criscuolo ferrara anastasio criscuolo anastasio pressing a tutto campo dei blu bravo 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 qui silenzio mazzei sulla linea laterale ferma il pallone serve cicatiello quindi mazzei lo scavetto a cercare uno tra truglio e silenzio il pallone però finisce direttamente dalle parti di ferrara quindi gladiatorso ancora in possesso palla zaccaro bello il filtrante chiuso da truglio quindi cicatiello mazzei di nuovo cicatiello mazzei silenzio truglio tacco all'indietro per andaloro silenzio si fa vedere truglio pallone in avanti per mazzei centrale silenzio poi criscuolo devia in fallo laterale questo pallone mazzei di nuovo scambia con silenzio oh no oh no eh la mia c'è stato un impallo ah c'è stato un impallo ah c'è no 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 gol di truglio quattro a zero skyjumpers c'è no c'è no c'è no c'è no vieni Truio ruba palla Mazzei di nuovo Truio al centro Ferrara blocca prima che il pallone uscisse prima che il pallone esca Anastasio non riesce a fermare il pallone escono intanto Cicatiello e Mazzei e rientrano i gemelli Albergo e Solo Truio vede Albergo lo serve Silenzio Truio Grazie Truio Solo complimenti a Gennaro Solo tiro Murato pallone in fallo laterale bravo Silenzio Solo pallone che esce Silenzio Silenzio Recupera becca anche un calcio da Criscuolo calcio di punizione per i blu Silenzio alla battuta la battuta la battuta c'è Ciro Silenzio Silenzio Truio capisce tutto serve albergo dall'altro lato dall'altro lato c'è Silenzio prova il destro deviazione del verde Criscuolo in calcio d'angolo Solo di nuovo Silenzio tocco di braccio dice l'arbitro calcio di punizione per i gladiators Zaccaro bravo Truio ottimamente posizionato al centro campo che sale prova il destro alto Anastasio occhio a Zaccaro dall'altro lato si ferma Anastasio servito Criscuolo prova ad avanzare un po' rimedia Silenzio che tocca per ultimo c'è il fallo laterale per i rossi Truio in anticipo su Anastasio albergo ipnotizzato da Criscuolo Anastasio bravi gladiators bella trama di passaggi Zaccaro solo recupera serve albergo di nuovo solo dall'altro lato c'è silenzio quindi albergo dall'altro lato solo non viene servito albergo fa tutto da solo e sbaglia di poco il gol del 5 a 0 Criscuolo bravo Truio zaccaro zaccaro trugio e da quelle parti ruba palla il numero 19 e guadagna anche il fallo laterale dopo l'ultimo tocco credo di Criscuolo andaloro andaloro silenzio Truio bravo Criscuolo che ferma il difensore avversario capitano quindi albergo pallone per Truio albergo due volte murato sempre da Criscuolo sollo andaloro quindi albergo silenzio tenta la giocata riuscita a metà Ferrara allontana quindi Truio sollo destro traversa e poi c'è il fallo laterale per i rossi Ferrara scatta in avanti Anastasio prende palla Criscuolo vede l'altro Anastasio poi sbaglia l'Anastasio barbuto e quindi gli skyjumpers ricominciano dalle retrovie albergo silenzio andaloro sollo tiro murato Anastasio per un attimo sollo che affondava il tegel ancora Anastasio in possesso palla bella l'iniziativa del 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 numero undici avversario intanto c'è un fallo laterale per i blu ora Truio poi sollo brutto fallo qui di criscuolo ma assurdo e cazzo faccio la bacia quando quando poi c'è non piacevole a vende un numero vabbè guardate vieni 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 Anastasio quindi criscuolo poi Anastasio silenzio rinviene sul pallone per gli skyjumpers passaggio a sollo di nuovo silenzio pallone al centro sollo 5 a 0 grazie mille Marco tu vieni andiamo insieme Truio deviazione di criscuolo fallo laterale per gli skyjumpers quindi silenzio serve andaloro dando loro a Truio sbaglia il passaggio all'indirizzo di albergo quindi fallo laterale già battuto per i gladiators bella la bello il tiro dalla distanza di criscuolo pallone che però finisce tra le braccia del portiere e vabbè andiamo a parlare proprio con Andaloro visto che sta qua partita attenzione il pallone dire partita abbastanza a senso unico questa per questa per voi però chiaramente l'attenzione non deve calare nel secondo tempo assolutamente i ragazzi si vedono sono bravi il problema è che non giocano di squadra quello è il problema secondo me e non difendono quando attacchiamo noi noi invece giociamo di squadra passiamo palla e segniamo in maniera semplice questa è la cosa basilare bene quadriamo anche Simone Mazzei che fa finta di palleggiare e ci vediamo dopo ricomincia la partita secondo tempo tra Skyjumpers e Gladiators che inizia con questo tiro alto di Cicatiello dalla battuta del calcio d'inizio del punteggio arride la squadra in blu che vince per il momento 5 a 0 Ferrara con le mani ultimo tocco di Criscuolo fallo laterale per il blu albergo destro bella parata di Ferrara in fallo laterale solo quindi albergo destro traversa chiusura di Mazzei solo recupera il pallone bravo Criscuolo a recuperare palla senza fallo per i suoi ancora Criscuolo solo non lo molla destro grande respinta di Andaloro ma molto bene Criscuolo che poi non molla solo e tocca per ultimo in fallo laterale hai ragione Marco ma anche per me è una bella trasferta stranissima questa scelta che taggerisce ci aggioneva per la prossima comunque grazie mille intanto c'è stato un altro palo di albergo sul tiro deviato poi un altro tiro sbilenco stavolta di Mazzei che finiva sul fondo e quindi ora i gladiato si hanno battuto il fallo di fondo da albergo a solo che supera il centrocampo Mazzei albergo una serie di calci di zaccaro che fanno allontanare albergo e ora ritrova il pallone tra i piedi bella l'apertura per solo tiro angolato che finisce a lato è un po' se ne rammarica il numero 21 degli Sky solo deve in fallo laterale quindi criscuolo chiusura di solo sull'avanzata di criscuolo albergo destro bravissimo Ferrara bravo Anastasio su albergo cicatiello andaloro Mazzei destro centrale albergo lo scavetto che finisce nel 7 nel portiere stavolta non può arrivarci 6 a 0 Sky Jumper Zaccaro ora si appresta alla battuta del calcio d'inizio Criscolo scambia con Anastasio destro murato da cicatiello pallone che finisce in fallo laterale battuta veloce bravissimo zaccarò Anastasio tiro impreciso sulla respinta di andaloro recuperano gli sky albergo in mezzo c'è Mazzei albergo serve Mazzei che non sbaglia 7 a 0 Zaccaro Criscolo quindi Zaccaro Criscolo sollo Anastasio commette fallo su cicatiello calcio di punizione per i blu intanto ci sono i gambi escono allora fischio io perché c'è stato il cambio escono solo e albergo e rientrano Truio e silenzio quadriamo il numero 5 impreciso il tiro di cicatiello quindi Ferrara con le mani Criscolo largo c'è Anastasio pressing alto di Mazzei va anche da Ferrara bravo Mazzei che è in fila l'ottavo gol Criscolo bravo Zaccaro molto bella questa palla per Anastasio ottima chiusura difensiva di silenzio Mazzei silenzio Mazzei è molta confusione tra silenzio e Mazzei quindi Zaccaro Ferrara Anastasio ferma Truio direttamente su Cicatello il tiro di Criscolo quindi Ferrara quindi Criscolo silenzio silenzio indietro andaloro quindi Cicatello Truio silenzio alto ma sei destro gol 9 a 0 Anastasio Anastasio Zaccaro Criscolo evita Mazzei cicati e lo tiro sul fondo Ferrara quindi Zaccaro Criscolo Mazzei serve silenzio smanaccia Ferrara quindi Zaccaro bravo Mazzei che ruba palla il cross al centro Criscolo forse c'è un braccio di Mazzei quindi Ferrara batte il calcio di munizione Anastasio Criscolo recupera Truio silenzio quindi Truio silenzio tiro che finisce all'alto Criscolo a posto un giro 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 superto 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 Criscolo uno contro uno con cicatiello che è successo ci fermiamo un attimo